Proviamo a accendere la luce Faccio il video in italiano questa volta perché penso che sia un po' più discorsivo Anche perché secondo me ci saranno un bel po' di cose da fare e un bel po' di cose da vedere Praticamente è un progetto a cui ho lavorato da un po' di tempo Tutti questi pezzi sono stati progettati da me E stampati da un mio amico che è la stampante 3D Home 3D che voglio ringraziare e salutare Cominciamo già nel dire che il logo è pensato per essere messo al muro Con nella parte posteriore del logo una luce LED Che andrà sparata sul muro dietro al logo per il modo da far Risaltare il logo come se fosse un'ombra per dire L'ho progettato io tutto io e quindi vediamo come è tutto quanto Sono molto curioso, molto imbogliato di provare tutto quanto Andiamo Uso la mia GoPro qui davanti per registrare un po' tutto quello che sto facendo da davanti Di fianco invece ho anche la mia fantastica videocamera Prima cosa da dire è che i pezzi sono stampati abbastanza bene Ho dovuto un po' levigarli e lucidarli diciamo Perché avevano ancora delle imperfezioni Li ho un po' levigati in modo che siano belli come risultato finale insomma E questo sarebbe il logo completo Nella parte posteriore del logo ho fatto un po' degli scansi e dei particolari Per attaccare dopo il LED Ho fatto una specie di guida tutta attorno al logo E nelle parti centrali ci saranno dei supporti che tengono il vano batterie Vano pile che sono 6 batterie AA Tutti questi pezzi sono collegati tramite questi gancetti che vengono incastrati sulle apposite fessure Inoltre dopo ci saranno dei fori porta fascette che ci serviranno a tenere il LED Primo step da fare secondo me è incollare tutti quanti i gancetti in modo che il logo rimanga fermo, stabile Poi cercherò appunto di far combaciare bene anche i pezzi che sono un po' staccati Poi attaccherò tutti i supporti e infine attaccherò il LED Il logo si attaccherà al muro con delle calamite che sono da 20 kg l'una quindi tirano un bel po' Vieni, andiamo Prima di incollare mettiamo tutti i pezzi al suo posto e vediamo come va Anzi, per questa parte posso... anzi, devo tenere una superficie piana Quindi questo lo sposto Viene fuori così Spero, o meglio, verrebbe fuori così Adesso lo incollo Senti i pezzi precisi Oh Uff Ah Questo Ok Ci siamo La faccia che mi interessa di più che sia bella è il davanti Dietro è poco importante Cerco di allineare bene i pezzi Adesso che abbiamo incollato il tutto Mi riprendo questo I prossimi pezzi da attaccare sono Questi vanno a incastrarsi qua Questi saranno i supporti per i vani delle batterie Facciamolo una volta Non sono il supporto generale di tutto il pezzo Non sono abbastanza grossi per tenere tutta questa struttura Quindi questi saranno i supporti dove andrà attaccato direttamente al muro Questi attacchi Questi due pezzi non li incollerò Perché sicuramente le pile si scaricheranno E quindi dovrò cambiarle Quindi questi qua li vengono solo come supporto fisso Che puzza da colla E che finché queste si incollano Posso bene proseguire con i mega supportoni Abbondo un po' con la colla Ho dato un bel po' di colla in questi punti Perché voglio che sia ben attaccata Bene aspettiamo che si incolli tutto bene E poi andiamo avanti Ok allora il prossimo passo E mettere i led qui Eccoci abbiamo i led con le due pile Le due batterie, i due vani batterie Il tuo led sarà due metri, tre metri e mezzo Non ricordo Va attaccato con le fascette Qua praticamente si vede come ho pensato a fare il giro dei led Qua arriva il bello Le fascette praticamente vanno infilate In questi fori qui Sono dei fori passanti Per me ne ho passato la fascetta Io farò passare il led in mezzo qua E con la fascetta lo blocco Niente questo sarà forse la roba un po' più lunga da fare Questo led qua sarà controllato da un telecomandino Che ho dentro lì Che permetterà di gestire la luce La luminosità, gli effetti eccetera eccetera Da remoto Le batterie nel vani batterie Se sono ben incollati Ho messo così penso E quell'altro Ho messo così Così i fili sono fuori Dalle sbalotte Questi qua ho messo sopra qui Cominciamo a fascettare tutto La fascetta è portata in mano E molta pazienza Dai ci passi Dai ci passi Ecco qua Ok Noi ce l'abbiamo Sarebbe meglio tenere questa placca sopra qui Ok Allora Fascettiamo qua Ok Cerchiamo di nascondere un po' i cavi Qua ci vogliono le manine piccole Che non ho Aspettiamo che in certi punti C'è ancora la colla Fresca E quindi Dicevamo Da qua si parte E si va su Progettarlo è una cosa Dopo metterlo in pratica E un altro Ah ci sta perfetto qua Che bello Fantastico Allora adesso devo fare una curva La fascetta ci passa Fantastico E questa muore lì In totale Per progettare tutta sta roba qua Penso di averci messo Un giorno Intero Probabilmente C'è un giorno Inteso come 24 ore di progettazione Però veramente ci sta Ci sta da Dio qua sul fianco Ci fanno mettere le fascette In modo che non mi desco le mani Siamo appena a quarto Yeah Mi piacerebbe mettere su un po' di musica Perché mi rilassano La metterò in posto Sicuramente Che bello quando le cose vanno bene Bisogna approfittarne quando durano Qua devo pulsare sopra Andiamo avanti Come se andrà plastica Ok Allora adesso curva secca Il casino sarà Far incastrare tutto quanto Il led Da Cosa funziona Allora Facciamo la stessa roba Anche in questo punto Passiamo sotto La fascetta Oh guarda ci sta perfetto Sullo scanner Non so se si vede qui Metto un po' di traverso Così magari Si riesce a vedere un po' meglio Da questa videocamera Da Usa a passarci sotto Ok Facciamo la fascetta dietro Dovrò raccontarvela Perché non si chiama un cavolo Di sto punto qui Ok Sono uscito ma Sempre piena di colla Porca miseria Ok Siamo passati sotto Al Al supporto Dove qui ho fatto due Fori Passanti Due c Diciamo Dove passare le fascette Sembra andare bene Quindi Non me la mento Mettendo questa fascetta qua dentro Possiamo tenere Due Parti del led Quindi la parte davanti Del led Della parte sotto Del led Ho messo tipo a panino Stiamo sacrificando Un sacco di fascette Giusto per farvi vedere Come sono messo Sono messo così Ho fatto fare tutto il giro Partendo da qua Da dentro qui Fino a qui Siamo a circa metà Ma neanche Però per adesso Stanno tutto Abbastanza secondo i miei piani Dopo Non voglio parlare troppo presto Qua sarà una rogna Qui È difficile farla passare le fascette Dai che ci passi Dai rispossi Confido in te Confido in te Due fascette E qua facciamo come prima L'impalinata di led Col contorno di fascette Qua deve fare il giro Non è strettissimo Speriamo che In questo punto qua Non sia critica la cosa Ok Buona Possiamo andare Su Su Che ci passa Su Che miseria Oh no Vieni Ci abbiamo fatto Adesso solo in discesa Siamo anche qua Faccio così Per vedere un po' Come sono messo Fascette e pazienza Voi tatuarmelo qua Fascette e pazienza Ok Adesso andiamo a fare tutto il giro di qua Adesso qua dovrebbe passarci bene In teoria Dai che qua si va spediti Dai che qua si va diretti Om Infascettazione lunga Lunga da morire Le mezz'ora che sono qua Ok La curva non è male Non mi dispiace Sono sopra una luce No Abbiamo quasi finito il giro Dai che abbiamo quasi anche finito il tempo Buco Ah no Questo passa direttamente Ok Come la taglio Eh lì nella curva Un po' Un casino Questo andrò a tagliarlo Qui Questo qua rimane in più Facciamo un brevissimo test Prima cosa da dire Che non è in equilibrio Accidenti Allora l'effetto non sembra male Ok allora eccoci nel logo dell'installazione Ho dovuto un attimo rimodernare la parete che vedete dietro di me Ho dovuto ripitturarla È stato un casino Però comunque siamo qua pronti per installare il logo allora Il logo verrà appeso nel muro dietro di me Esattamente dietro di me Dove ci sono quelle rondelle appese al muro E cos'altro del logo Praticamente ho solo attaccato le calamite Non ho mica fatto vedere come avevo fatto Ma sono semplicemente delle calamite fatte un po' a rondelle Spesse circa 7 mm Con una vite e un dado dietro Roba molto semplice e minimale Però effettiva Ok siamo al momento della verità E vediamo adesso come starà il logo sul muro Ok Boom Come vedete il logo ci sta molto bene Sta sospeso nel modo giusto Appunto le calamite sono abbastanza potenti Proviamo ad accendere la luce Ho la possibilità di variare il colore Il mio preferito è anche il blu Spacca Spacca veramente Il mio preferito comunque è il verde Siamo dunque giunti alla conclusione di questo video Grazie per aver visto il video Spero che questo progetto sia stato anche di tuo gradimento Sicuramente questo logo farà la differenza nella parete Che dire sono molto soddisfatto del risultato ottenuto È stato un progetto interessante E sebbene ci è voluto molto tempo Ne avassa sicuramente la penna Come sempre lascia un commento e un like Dimmi anche tu cosa ne pensi di questo logo E se sei nuovo da queste parti Considera anche di iscriverti al canale Mi aiuta così a creare contenuti nuovi E cercare anche un po' di variare Dalle solite cover Ti ricordo che ho il server di Discord disponibile Se ti interessa avere le tab delle cover che creo Prima della release del video Ti ricordo che se vuoi puoi ascoltare la mia musica su Spotify E in tutte le piattaforme streaming E se vuoi seguirmi anche su Instagram Sono abbastanza presente anche lì Comunque grazie ancora per essere passato Noi ci vediamo al prossimo video Pace Ciao